il signor Alfano, tutte queste persone, febbraio del 94, a Milano. Quindi mi scusi, nel dicembre del 93 che appuntamento c'è? C'è un appuntamento preliminare per fissare una riunione poi del 94? Allora c'è un appuntamento che siccome aveva detto di sì il signor Berlusconi, il mio cugino mi ha detto, dice, senta, che intenzione ha? Se viene anche tu e ascolta tutto. E c'è stato questo appuntamento. Quindi vi siete incontrati, lei, suo cugino e Berlusconi? Sì. Dove? Sì, a Milano già. Alla presenza di chi? Berlusconi anche qui era da solo? Sì, da solo. Se c'erano altri io non chiedevo chi erano e chi non erano, non mi interessava la cosa. No, però dobbiamo capire se nella stanza dove è avvenuto l'incontro eravate solo tre persone o se c'erano persone che lei non ha riconosciuto? Benissimo, c'era buon chiaccio.